Pietro, Viviana, buongiorno a tutti. Io vi trovavo questa bellissima paglietta, un dito facile da risolte giandre. E questa frase cosa contiene? Contiene tanta roba. Assolutamente. Vogliamo parlare dell'associazione? Allora, l'associazione La Stella di Lorenzo Amos, per il progetto P2P, ha deciso di fare questo evento sabato 25 giugno presso il cortile del castello Bolognini-Sant'Angelo. Non un posto Bolognini-Sant'Angelo. Un signor posto dove Franco e Viviana ci avvieteranno del loro spettacolo denominato Faccia alla Rizzonte Giandre. Visto che è dedicato al Principato di Sant'Angelo, diciamo perché Sant'Angelo non può essere considerato una cittadina, ma è un principio di mondo a parte, che racconteremo in questa serata, ci sarà anche un momento in cui racconteremo di Sant'Angelo. Un lodigiano, una turinese che raccontano di Sant'Angelo, oppure questo succederà quella sera, ma non solo. Non solo perché durante quella sera, dalle 19.30, verrà servito un piatto di risotte giardi alle persone che sono state sostanzialmente brave nel fare una donazione concreta per la nostra associazione e che verranno a vedere questo spettacolo. durante la sera ci sarà anche DJ Beppe che ci avvieterà con la sua musica e... musica fa anni 70, 80, 90 e 100. Anni per tutti gli anni. Ecco, ci sarà la possibilità di avere dei buon cocktail fatti dal nostro picco canto, senza esagerare, senza pesare, eccetera, eccetera. Quindi, noi vi aspettiamo numerosi, sono molto, molto convinto che la serata sarà una serata all'insegna del divertimento prima, del buon cibo, e della solidarietà, che è la cosa più importante della serata. Tre, ma dove l'uno? Poi? I'enchi davese, la faccia del risotto giallo. Non c'è... Allora, ribadiamo il tutto. Allora, 19.30, aperitivo con degustazione di riso al zafferano e zucchine, accompagnato da un calice di vino. Sì, sono da un calice di vino. Alle ore 22, spettacolo di cabaret, con Franco Rossi e Vigliana Porco. Lei, Viviana, io sono Franco, non so se ce l'ha detto bene, ma dal titolo, guarda caso, faccia, dalle salotte gianti. E poi, dopo, con la musica, si faranno gli anni 70, 80, prima, poi 90 e 100, dopo l'altro, il tutto, diciamo, l'aperitivo più il cabaret, costa, diciamo, se vuol dire, costa 25 euro. che fanno tutti in beneficenza, grazie ai tanti sponsor, grazie all'aiuto di tanti amici, che ci hanno sollezionato, ci hanno spinto a fare questo bel evento. Ti aspetto numerosi, e vi mando un bacio. Anche noi li aspettiamo numerosi, almeno quanto numerosi sono quelli che aspetta Pietro, per cui, ci hanno sollezionato il proprio lingualoso. Esatto.